Buongiorno, appassionati di Top Sport News. Oggi l'Italia è in fermento per una notizia che vi sorprenderà. State per scoprire una trattativa importante nel mondo del calcio italiano e non potete perderne neanche un dettaglio. Perciò vi chiediamo di iscrivervi immediatamente a questo canale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con le ultime novità. E non dimenticate di lasciare un bel like su questo video perché il vostro supporto è fondamentale per noi. Vediamo cosa succede sul lato trasferimenti. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter sta agendo sul mercato con una mossa audace. C'è un nome che sta facendo, ecco, Giorgio Scalvini, il talentuoso difensore dell'Atalanta. L'Inter ha piazzato un'offerta da 30 milioni di euro più un bonus di 3 milioni per il diciannovenne. Tuttavia, l'Atalanta mira a una cifra più alta, addirittura 50 milioni di euro. E i colpi di mercato non si fermano qui per i nerazzurri. I riflettori sono puntati anche su Benjamin Pavard del Bayern Monaco. L'Inter è interessata a portare Pavard nella sua squadra, ma c'è un intoppo. Il Bayern aspetta il suo sostituto prima di dare via libera al trasferimento. Le voci suggeriscono che Pavard potrebbe addirittura scioperare i per raggiungere l'Inter. Tuttavia, il tempo stringe e il processo si dimostra un percorso accidentato. E se Pavard non dovesse essere il prescelto, la vista dell'Inter potrebbe volgersi verso Armando Izzo del Torino. Le trattative sono intense e la situazione rimane ingarbugliata. Ma veniamo a Giorgio Scalvini, il giovane talento dell'Atalanta è al centro dell'attenzione di molti top club. Atletico Madrid, Newcastle United, Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco e persino la Juventus stanno seguendo da vicino la sua situazione. L'Atalanta ha fissato un prezzo di 50 milioni di euro per lui e questo potrebbe portare a un duro scontro per accaparrarsi il suo talento. Quindi, cari appassionati, cosa ne pensate di queste emozionanti mosse di mercato? Lasciateci le vostre opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Top Sport News per non perdere nemmeno un colpo di scena. Restate con noi, perché il mondo del calcio non smette mai di stupire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.